Ciao dalla casa delle farfalle di Bordano. Vi ho portato un animale che è un animale di Barbara. Lo abbiamo adottato io e lei qualche anno fa perché purtroppo i padroni originari non potevano più occuparsene. È un animale meraviglioso, è un pittone palla, chiamato anche pittone reale, dell'Africa occidentale. È un animale innocuo ovviamente, non abbiate paure, che non sto rischiando, ovviamente nessuno di noi rischia. Questo è un animale che probabilmente ospiteremo alla casa delle farfalle con l'apertura della stagione perché realizzeremo un percorso sul mimetismo. E come vedete questo pittone reale è un bellissimo esempio di mimetismo criptico perché guardate la sua livrea, benissimo si confonde con un ambiente di sottobosco, di foresta tropicale dove vive. Una delle particolarità del pitone palla, beh innanzitutto è uno dei più piccoli pitoni, raggiunge al massimo un metro e mezzo, forse anche due, che è molto poco comunque per un pitone. Vi ricordo che ci sono specie enormi come il pitone reticolato asiatico oppure come il pitone delle rocce, il pitone di seba africano che sembra possano raggiungere, superare gli otto metri e infatti sono pericolosi anche per gli umani. Molte persone ci chiedono di adottare rettili in particolare che loro hanno acquistato magari per il loro figlio o per se stessi in un momento della loro vita. Il problema è che molti di questi animali vivono a lungo, ci sono per esempio tartarughe di terra che possono superare i 70 anni di età e quindi quando acquistate un animale del genere pensateci bene, dovrete prendervene cura per tutta la vita dell'animale e per animali appunto con una vita lunga come i rettili questo può essere estremamente impegnativo. Quindi non prendete con leggerezza animali come questo, anzi il mio consiglio non prendetevi affatto. Questo pitone reale ha tante particolarità, per esempio è un serpente, quindi un rettile, quindi un animale sangue freddo che però cova le uova. Com'è possibile? Covare le uova ha senso se sei caldo e con il tuo calore riesci ad aumentare la velocità dello sviluppo dell'uovo e quindi favorire appunto il fatto che l'embrione si sviluppi. Ma i serpenti sono a sangue freddo, quindi come può avere senso e servire per un rettile covare le uova? In realtà questo pitone ha trovato un'ottima strategia, riesce a produrre calore nel momento in cui ha prodotto le uova in modo da poter scaldarle e quindi favorirne lo sviluppo. In poche parole si mette a tremare, come facciamo anche noi, anche noi tremiamo quando abbiamo freddo, perché? Perché il tremare implica il movimento muscolare non finalizzato al movimento del nostro corpo, infatti noi quando tremiamo stiamo fermi, però il movimento muscolare produce calore. Quindi questo serpente cova le uova perché quando è il momento riesce, tremando, ad aumentare la sua temperatura corporea rispetto a quella dell'ambiente circostante. La cova può durare anche fino a 60 giorni. Il vero superpotere di questo pitone reale sta nella testa. Davanti, come adesso vedrete, spero, più da vicino, possiede degli organi speciali, chiamati organi a fossetta, che gli permettono di vedere, di percepire i raggi infrarossi. In poche parole riesce a vedere un corpo caldo al buio. Ed essendo un animale che si nutre però più di mammiferi, quindi animale a sangue caldo, questo permette a questa specie notturna di poter identificare la preda anche in totale assenza di luce. Un po' come fanno i militari con quegli occhiali, quelle apparecchiature, equipaggiamenti estremamente tecnologici. Ecco, i pitoni ce li hanno da milioni di anni. Ecco, come ultima cosa, vorrei dire che tutti i pitoni, tutte i boa, sono animali protetti dalla Convenzione di Washington, perché sono animali ovviamente che, come tanti altri che vivono in questi ambienti tropicali, sono a rischio di estinzione. Molte specie lo sono perché il loro ambiente naturale viene utilizzato, degradato, distrutto dall'azione antropica. Quindi è vero, una foresta tropicale è uno degli ambienti più ricchi di biodiversità, ma è anche uno di quegli ambienti dove se noi tagliamo tutto per coltivare o fare gli allevamenti perdiamo più ricchezza biologica del pianeta. Ah, l'ultima cosa, visto che sta tirando fuori la lingua, voi sapete che i serpenti hanno una lingua biforcuta. Ricordo che questo serve per avere una sensibilità stereoscopica. Cosa vuol dire? Come noi abbiamo due occhi per percepire la profondità e due orecchie per capire da che direzione arriva un suono, avere una lingua biforcuta serve per capire da che parte arriva l'odore. Perché la lingua è la sede dell'olfatto dei serpenti, perché possiedono un organo particolare sul palato. In poche parole la lingua esce, cattura le particelle, le molecole nell'aria, l'odore, le riporta all'interno della bocca e il contatto con il palato permette a questo serpente di riconoscere il tipo di sostanza. Un po' come facciamo noi con il nostro naso quando inspiriamo. Il fatto che la lingua appunto sia biforcuta gli permette di capire se il profumo, l'odore arriva da destra, cioè o da sinistra. Quindi se la preda è a destra o a sinistra, perché l'olfatto è uno dei sensi più sviluppati, il senso più sviluppato perché animali notturni percepiscono la preda come il topo grazie al suo odore. Vi ringrazio per averci seguito, spero che ci vedremo presto dal vivo anche con tutte le nostre farfalle che spero arriveranno presto. Intanto io e Monti, come ho chiamato il pitone, vi salutiamo. Alla prossima! Grazie a tutti!